allora dobbiamo proseguire qua perché questa ci fa sbucare sulla strada della macchina e lì più avanti dove c'è il cartello lo vedete siamo ormai arrivati lì c'è il capannone più avanti c'è il distributore ormai siamo a pochi passi avremmo dovuto fare questa ma abbiamo preferito fare molto meglio quella lì questa è la polizia che sta andando a sparare salutiamo come si chiama ecco diciamo l'ultimo chilometruccio ecco ghilarza lì in fondo ormai l'abbiamo percorsa perfetto abbiamo fatto un chilometro e qui ci sono i ghilarzesi che hanno una casa in campagna ecco di fronte a noi la cittadina di chilarza senti i tuoni teresa abbiamo fatto bene aspettando che arriviamo noi abbiamo fatto bene a non prendere per coprirci però si sta avvicinando riusciamo ad arrivare anche sino a paoli latino ecco ecco ormai siamo arrivati a ghilarza siamo solo a un chilometro e quindi molto bene questo cammino è davvero ci ha portato fin dove desideravamo ecco ci mettiamo proprio sopra il cartello qua e poi dopo abbiamo soltanto questo ultimo chilometro e via quindi vedremo ecco invitiamoci mettiamoci mettiamoci ormai veramente avvicinati Teresa di ghilarza ecco noi tadasuni però abbiamo allungato per andare a soddì e azzurri ecco e poi questo e dobbiamo prendere questa stradina qua che porta sino al paese bene allora andiamo ciao